Ti porgo il mio benvenuto! Se ti aspetti che la scienza possa dare tutte le risposte alle meravigliose domande chi siamo, dove siamo diretti, qual è il significato dell'universo e così via penso che potresti facilmente disilluderti e quindi cercare qualche risposta mistica per queste domande non capisco come uno scienziato possa accettare delle risposte mistiche perché l'atteggiamento è quello di capire beh, lasciamo stare, non lo capisco e basta ad ogni modo, se ci pensate, quello che io penso è che quello che facciamo è esplorare e scoprire tutto il possibile sul mondo la gente pensa che la scienza significa cercare la teoria del tutto la teoria finale che racchiude tutte le leggi fisiche e sia questo certo che no cerchiamo solo di capire qualcosa in più sul mondo e se si scoprisse che esiste una legge ultima che spiega tutto, che spiegasse tutto sarebbe una bella scoperta, sarebbe una grande cosa qualunque cosa salti fuori la sua natura è lì e si manifesterà per ciò che è quindi quando facciamo degli esperimenti non dovremmo avere preconcetti sul da farsi se non solo quello di scoprire qualcosa in più vedete, il fatto è che io posso vivere nel dubbio e nell'incertezza e nell'ignoranza penso anzi che sia più interessante vivere senza sapere che avere le risposte sbagliate le mie risposte sono approssimative le mie teorie plausibili e possiedo diversi gradi di certezza su cose diverse ma non sono assolutamente certo di niente e di molte cose, non so proprio nulla ma io non devo avere una risposta non sono spaventato da non conoscere le cose dall'essere perso in un misterioso universo senza scopo che è proprio così per quello che ne so ma non mi spaventa quindi ricapitolandolo io non posso credere a queste storie costruite per spiegare la nostra relazione con l'universo perché sembrano troppo facili troppo semplicistiche, troppo comuni è venuto sulla terra uno degli aspetti di Dio si è manifestato sulla terra ma pensa e guarda cosa c'è là fuori non c'è confronto con ciò che c'è là fuori cerco solo di farvi capire che col metodo scientifico di vedere le cose dovremmo distinguere cosa è vero da cosa potrebbe non esserlo una volta che inizi a dubitare che è una parte fondamentale della mia della tua anima quella di dubitare e fare domande quando dubiti e fai domande diventa più difficile credere ecco queste parole di Feynman spero di averlo pronunciato bene sono stupende ragazzi magari qui in descrizione vi metto il link al video sia quello doppiato in italiano sia quello originale davvero delle parole stupende di un grande scienziato di una grande mente siamo persi in un misterioso a quanto pare universo senza tra virgolette scopo se non quello di cercare di capire se non quello di sapere di cercare risposte di porsi domande tra virgolette sempre senza scopo senza scopo bene cercate di vedere il mondo dal punto di vista del metodo scientifico così che potrete iniziare a dubitare è fondamentalmente una parte della vostra anima quella che dubita e che vi pone delle domande come già detto quando inizierete a dubitare quando inizierete a porvi delle domande soprattutto con il metodo scientifico diventerà sempre più difficile credere bene ragazzi noi ci vediamo alla prossima e buone